Un Cerignola enorme, va sotto nel punteggio, rimonta e conquista una vittoria assontuosa per tutto. Capparietà, spirito di gruppo, determinazione e voglia di stupire. L'Avellino, una delle squadre più in forma del momento, è battuto. Finisce 3-1 al Monterissi per gli Ofantini che raggiungono così quota 41 punti in classifica. Tornano in quarta posizione, diventano nuovamente la migliore pugliese del giorno C e accorciano dall'ultimo gradino del podio, ora distante, 6 lunghezze. La salvezza è cosa fatta, è lecito puntare a qualcosa in più. Parte dalla panchina Malcora in avanti, nel 3-5-2 ci sono D'Andrea e Aschik. Quest'ultimo risulterà non decisivo, molto di più. Confermatissimo in mezzo al campo Ruggero, il match winner del San Filippo Franco Scoglio. Grandissime emozioni nel pomeriggio del Monterissi. D'Andrea, prima del quarto d'ora, viene fermato al limite dell'aria da pane. Non c'è la punizione, non c'è il rosso per il portiere degli Irpini. Perché si alza la bandierina dell'assistente, fuori gioco, i dubbi restano. Punizione di Aschik, colpo di testa di Tascone, palla che si stampa sul palo dopo una debiazione sulle sviluppi dell'azione, lo stesso Tascone viene atterrato in aria e calcio di rigore dal dischetto. Però pane e il legno salvano gli ospiti sulla battuta di Aschik. Avrà modo di riscattarsi in seguito. Attento dalla parte opposta, anche Saracco, che va a deviare in corner la beffarda conclusione di Moretti, prova a prendere coraggio l'undicirpino, che però fatica ad essere pericoloso in avanti. Prima dell'intervallo è impreciso. Lo stacco di Ruggero, 0-0 a metà gara. Ripressa, decisamente più scoppiettante ed avvincente, tra due squadre che si affrontano a viso aperto. Aschik sterza e poi conclude. Panere spinge sui piedi di Lassiglio, che sbaglia completamente la mira sulla ribattuta. I biancoverdi passano poco dopo su azione che parte da rimessa laterale. Idea di trotta per Russo, che non lascia scampo a Saracco. 0-1 al Monterissi. Non si perde d'animo il Cerignola, che reagisce immediatamente. Sventola di potenza di Tascone. Pane c'è il gol del pareggio. Arriva comunque prima dell'ora di gioco. Ospiti distratti. Tascone ringrazia e serve Aschik, che completa l'opera. Con un destro secco ed efficace. Di nuovo equilibrio 1-1. Padroni di casa avvicini al sorpasso subito dopo con il nuovo entrato Righetti. Superlativo di nuovo l'estremo degli Irpini. Non poco dopo, però, quando si scontra clamorosamente con il nuovo entrato Auriletto. Aschik recupera palla e firma il vantaggio per gli uomini di Michele Pazienza. Quinto centro in campionato per il 19 gialloblu. Non molla anche l'Avelino. Saracco si esalta sul piazzato di Russo. Niente doppietta per lui, dunque. Fuori d'Andrea, dentro un malcore subito determinante. Sfrutta l'assist al bacio di Luca Russo. Blinda il successo dei suoi. E realizza il gol della doppia cifra in questo campionato. Finisce 3-1 per un superlativo Cerignola, che sfiora addirittura il poker in più. Non recupero con l'IGI. Vittoria pesantissima per il collettivo del presidente Nicola Grieco, che torna in quarta posizione in classifica con il secondo successo consecutivo. E il terzo risultato utile di fila. La conferma della categoria, dopo aver superato quota 40 punti. E ormai in cassaforte. Da domani il Cerignola può cominciare ad immaginare qualcosa di più importante.